Il menù è bellissimo, l'adoro, molto horror Confermo Metti normale Ovviamente Mettiamo normale Sei pronto per questa grande avventura, Harkin? The Forest Cosa abbiamo passato, ti ricordo? The Forest Vale Mordo Aspetta, faccio un salto No, Vale, io non muoio qui, mi rifiuto Uno qui Un altro qui Picchiali, picchiali, Vale, metti su Ma Oh, oh, oh Oh, che c***o Cosa c***o Vale, siamo in un laboratorio Una bambina Porca di una bambina Ma vai via, ma vai via Che c***o, corri Sono morto, Vale Vale, Vale, sono morto Eccoci qua, sull'isola L'ultimo segnale proveniva da 150 metri Sette mesi fa Non troverai nessuno sopravvissuto laggiù Ok, questa è la famiglia di miliardari Per il quale noi stiamo indagando Questa è Virginia Fight Ad entrare Dimon Fintanto è entrato E ci sparano Non si sa da dove Non si sa chi Non capisco in che posizione è messo l'elicottero Siamo appesi Ah Se c'è caduto addosso l'elicottero Siamo morti, punto Ecco il tizio Chi ti ha invitato qui? Prendiamo il nostro La nostra borsa Kit di emergenza Ecco che sono spawnato Eccolo Eccolo Ok, devo far così Ok, non mi ricordavo Sono un pesce C'è i timpani spaccati Ok Cioè, ok Ti sei curato? Cazzo è vero, sono guaccio Eh, perché? Si, si cura Adesso se ne accorta Eh, sì Uia Oh, che bello del verde Allora, buttarci brutalmente in una caverna Non mi sembra il caso Non avrebbe un senso Eh, andiamo prima in uno di quei punti col GPS Non mi rassicura questo, me No, per niente Cos'è? Ah, la fionda Una fionda Ah, l'appeso Vai, ho rotto Ho rotto, ho rotto Ok, abbiamo trovato un membro della squadra Torcia, intanto Intanto abbiamo preso anche il segnalatore E non so se hai notato Finalmente i segnalatori non fanno Bip, 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 bip Oh mio Dio, meno male, meno male Una roba irritante Cos'è? Aspetta Gordon Pafton si rifiuta di farci sapere che cosa sia questo posto Senza contare che il mio team è stato trovato dall'altro lato dell'isola Se non farà qualcosa per la situazione lo farò io Caverna Caverna? Vuoi entrare? Ma sì, dai Sopra o sotto? Andiamo prima sotto Ah, 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 aspetta Cos'è? È un pezzo di un progetto Non so cosa possa essere Forse è un grosso raccoglitore d'acqua Ah, si sale qui Oh mio Dio Fermo, fermo Se io mi metto così Cioè non puoi Eh, lo so Questo gioco è un quadro, sì Oh, Candy, Candy Funziona? Sì Oddio Ma è velocissimo Come cazzo si veda? Piano, piano, piano Fanculo Cioè Dio, santo Ok, fermiamoci qua Guarda che bel posto Oh, tentiamo di andare laggiù per prendere la pistola? Non è che ci sono gli squali Eh, sì No, ma Aki, la curatezza delle onde che quando... Porca la merda Oddio, sali, 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 sali Fammi salire Oh, fammi salire Dai, dai, dai Pistola Molto utile, molto utile No, sta diventando buio Aia, lo squazzo È arrivato lo squazzo Mi ammazza, mi ammazza, mi ammazza, mi ammazza Aki, su Wai No, 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 no Veloce, veloce Facciamoci un rifugio Oh, madonna, le tenebre Però ti dico Non è un buio È un buio super realistico Perché effettivamente Anche con una torcia Vedresti a Boh Quei cinque metri davanti a te Non di più Vai, fatto Vai Prima dormi, poi sali Esatto Ok Ecco, bravo, Vale Guardatelo Non potrei avere compagno migliore Ecco, vai Ok, la mia è pronta Kelvin, sale? Vabbè, ci segue, Aki Vabbè, ciao È un villo, è un villo No, 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 no Non vogliamo niente Andiamo nel caddy Via, via, via Kelvin No, 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 no Non ci interessa Gli hanno lanciato una chiata L'ho visto Eh no, allora Ma c'ha due lance Muori Dai, venite Guarda come si muove questa È bravissima Creca, fallito Se vuoi Aiutami Eh, sono morto Rianimami Grande Oddio Madre divina Madre divina Madre divina C'è una maschera Ok Mamma mia Quando sono brava A combattere Questi coglioni Hai saccato una gamba Ah, la tomba Non abbiamo la palla Per scavare Grande Ma porca la Sì, vai più Un po' più nell'acqua Vai un po' più nell'acqua Così ti impanta Un po' di più Eh, ma volevo fare Fare il bagno al caddy Vai Faccio un fuocherello Ok Questa prendi la tu Prendi una tu Pronto Ok Cerchiamo di non farci vedere Oh mio Dio Vuoi scendere? Che cosa? Eh, eh, eh Muori Non ci vedo Non ci vedo Roce Cerco di non farmi vedere Roce che Ok In teoria è un'arma Cioè, vedete Cioè, il personaggio che attacca Non gli fa niente Sì, sì, sì Ci hanno visto Sono dietro di Via, via, via Corri, corri Aia Merda, merda Vai, vai Curato, curato Non ho energia Non ho energia Vai, vai Uno è morto Ok Morta Oh, oh, oh Qua c'è un foglio Questo è il mot... È ciò per cui... È ciò che stiamo cercando E c'è la foto tipo di un minerale Puoi cuocere... Ah, eccolo È questo qui Boh, che cavolo è? Ah, c'è... Ah, è vero C'è l'utante Quello da far esplodere Guardate ragazzi Questo obrobrio Siamo pronti a farlo esplodere Three, two, one Go One, boom Mamma Papapapapapa Papapapapa Poglio I miei lavoratori Sanno in un sacco di problemi Perché si stanno insidiendo In queste caverne Completamente oscure Abbiamo bisogno di più luce Ok No, 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 no È quel coso È la Oh merda È in figure di silent il 2 ma che cazzo vomita ragnatele non so perché arriva 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 a chi è un attimo soccartando vieni vieni levate il lancio una moto levati bello è morto l'avevo un godo questo si può scuogliare sì questo sì c'è un altro dietro 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 oddio il nord di signori dicendo arrivo arrivo l'ho incendiato praticamente è morto stai lontano stai fuori qua c'è questa incisione si vede questa scatola dorata gente fuori che un po sdraiata un po sembra che stia cercando di entrare questo qui e chissà che cavolo vuol dire so levati 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 muori fa tanto danno è e lo vedo mi ha rotto l'armatura non va bene morto e crepa non c'è niente bimbi 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 no questi no questi sono i peggiori che male che fanno che male questi no foglio foglio manda semi a scavare in questa caverna prossimamente puoi controllare se lui è ritornato con la mia pala quanto è buio che poi sembra che dal video è scurito ma in realtà vi assicuro che io vedo esattamente quello che state vedendo voi no c'è uno di quei cosi evitali eviteli 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 bambino non arrivano 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 tutto c'è questo possiamo sparare e aggrapparci a perfetto bene bene così mi piace si esce o si abbiamo trovato trovato pure riforme abbiamo preso un sacco di roba un sacco di proiettile quanto cazzo è notte andiamo a rifugio sembra di giocare a slam perché ti giri così perché guarda che bella foschia che c'è oh mio dio quella nebbiolina sulla spiaggia oh quasi scende oh mio dio allora quella in alto è la montagna ma che cazzo lì è tipo è profondo come la montagna della terra che cazzo c'è il centro il sito a c'è non era solo sotto c'è era in pendenza tanto quanto la montagna capito oddio ma questi sono dottori però purtroppo anche qui ci vuole il respiratore ci può essere qua sotto allora andiamo a vedere la caverna sempre di sopra oh una tomba tombe verso la caverna un bel caplamo aliante pieghevole l'ho lasciato ah oh ah aiuto oh mio dio no 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 non andare senza di me oh oh a chi a chi sto volando ok 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 vai ci sono oh mio dio che figo ma che te si è ciecata riprendo Amazonis Alexa no basta elicottero dov'è è qua no 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 seguilo 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 grazie a tutti